All'inizio dell'inverno mancano ancora alcune settimane, ma per qualche paesino di alta montagna il calore del sole diventerà presto un ricordo. Nella giornata del 6 novembre, infatti, farà capolino per l'ultima volta la contrada d'ossi. Il piccolo nucleo conta una quindicina di abitanti e dista dal capoluogo Val Bondione meno di due chilometri, ma durante la stagione fredda le temperature risultano generalmente più basse di circa due gradi. Per i suoi abitanti e quindi iniziato il conto alla rovescia. Sabato il sole illuminerà l'abitato per l'ultima volta in questo 2010. Sul suo versante ovest si trova infatti il pizzo della corna, che supera i 2300 metri di altitudine. Come già detto, la piccola frazione di Val Bondione è abitata da circa 15 persone, anche se nei fini settimane il loro numero aumenta leggermente, grazie al ritorno di alcuni villeggianti. Il ritorno del sole è previsto i primi di febbraio, dopo aver lasciato alle spalle i giorni della merla. La data è per ora relativamente invariabile, poiché tutto dipende dalla quantità di neve che si trova ancora sul crinale del pizzo della corna. Uno spessore maggiore aumenta infatti l'altezza della montagna e di conseguenza il sole può ritardare gli altri 3 o 4 giorni. Malgrado l'inverno non sia ancora completamente alle spalle e il paesaggio sia di norma ancora tutto imbiancato, questa data è vista come una lieta ricorrenza da tutti. Una situazione analoga la vivono anche gli abitanti della località Casacorti, dove tuttavia il sole farà la sua ricomparsa qualche giorno più tardi, intorno al 20 di febbraio, dopo circa 4 mesi di totale assenza. Ma in questo caso sono gli appassionati dello sci di fondo a gioire, perché nei borchi circostanti si snoda la pista di fondo e le basse temperature garantiscono una condizione di innevamento sempre perfetta, anche grazie all'impianto artificiale.